Attenzione binario 48, se ascoltate è la provincia di Foggia che chiama, operatore Picchio Rosso Picchio Rosso Ehi, ti ascolto Ciao, buongiorno, siamo in trevo, è tutto Roger, coordinate Foggia Sì, sì, tutto Roger, qua c'è un sole che spacca le pietre E' quello che rimane a voi per spaccare le pietre che l'ha mandato a noi, porca, la palla si brucia Ah, hai capito bene, qua si muore di caldo, stanno a 35 gradi adesso, 35 gradi Come sono le condizioni da te? Ah, in questo momento sono 30, è 30, tutto sotto il sole battente, dai Parte mia è un profitto per salutarvi che sono arrivato, arrivato, dei campanoni Buon fine gentile, penso di risentirci, dai, e non mi raccoglieremo, non mi raccoglieremo, non mi raccoglieremo Siccio, bion, siccio Eh, va bene, dai, te lo saranno modulato, dai, alcune cose mi hai detto in tuo nome, però Ciao, Barba Nera, buongiorno, 7,3, 4, io Radio Scalcomento, guardinato di a casa, provincia di Milano, che ti saluta, Barba Gambio Parmi sale cambio, trago, corsa Por Morano, Shendi, pole mato, Shendi, soni rememberterri, Bergamo, cambio Attenzione al binario 42, se ascoltate la provincia di Foggia ti chiama Foggia, Barbariera, Roberto Gabbio, sto usando un FD7 ma se ogni senso devo dare una piccola Sì, sì, lì chiamo il G7, cos'è la 757 Gisla, non ho mai trovato il canale Lui ce l'ha mai messo l'antena e pensa un po' in che condizione che l'ha parato lento Eh, infatti non lo uso mica, non lo uso, non lo uso mica Scusa, se lui non mi ascolta, forse per andare a ascoltare le frequenze basse, tipo le onde mediche Oh, chi ha fatto bene, dai, sono lì attaccato il computer, lì sto venendo praticamente niente Ma adesso, a volte passerò la mia amica, sì, o lì di fare un'estate, siccome quello lì è una bella webcam, o lì di fare un'estate perché questo lì è fatto per l'altro sistema operativo Sì, 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 niente di nuovo questo Eccolo mio, faccio questa, non è bene, non è che freccello, non è che freccello, non è che freccello, non è che freccello, non è che freccello. Eccolo mio, mamma mia, sicuramente venivano di Romani, massimilanesi. Attenzione binario 5, se ascoltate è la provincia di Foggia che chiama. La zona va libera. La zona va libera, non è che freccello, non è che freccello, non è che freccello. Dobbiamo solo lavorare e basta, invece voi lì avete l'opportunità che la sera finisci a lavorare. Magari presto prendi la serviettina e te ne vai a fare un bagnetto al mare, capo. E io ho la segura, io ho la segura, io ho la segura. Io ho 4.7, ascoltate, se vedete... Vado per bucci, ci vediamo. E io ho la segura, io ho la segura, io ho la segura. Attenzione binario 48, se ascoltate è la provincia di Foggia che chiama. Catalu, Gilebra, buongiorno a Piavia. Buongiorno a Piavia, mi sento di Andilana per cercare. Buongiorno a Piavia, ti saluta sempre, cambio. Ciao carissimo Roberto, buona giornata pure per te. Saluto anche l'amico di Foggia, purtroppo c'è un sacco di appartimenti, non me ne vogliate, ma i problemi sono veramente tutti miei qua. In tangenziale di Milano, sentite vetraio cappa. Sì, ma Vincenzo, vuole scusi a che rimuca, Massimino Vento della Nord qua, superstrada della Mardensa, direzione Milano per trovare il discarico. Risolto, è quella differenza, buona, un'eserciata. Sì, senti di là, e si rispetti come arrivi là e là. Sì, buona giornata, Michele Geranto, sono pieno. Sono in fase di allestimento, fermo, adesso ci sarà sezzato. Perché dopo io non l'ho più neanche stellato su questo nuovo. Vabbè, lo proveremo. Vabbè, lo proveremo. Buona giornata, buon riposo, buon di tutto, ci siete sempre caro. 5.30 per le porte di Milano, ti saluta, Gaglio. Gaglio, Gaglio, Gaglio. Gaglio, 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 Gaglio. Gaglio, 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 Gaglio. Irene RTS ascolti il dettaglio intragenziale di Milano Irene Caffa libera mondo coordinato provincia Milano attenzione al binario 5 se c'è qualcuno in prossimità di Veste che mi ascolta in Sì, non è vero. Grazie a tutti.